Un reparto speciale della Brigata Marina San Marco di Stanza Brindisi ha sventato un attacco di pirati a bordo di un mercantile nel Golfo di Guinea. Un elicottero con a bordo i militari del San Marco, decollato dalla fregata Luigi Rizzo, è intervenuto sull'Arch Gabriel, battente bandiera delle isole Marshall, liberando l'equipaggio che si era rifugiato nella cittadella della nave e mettendo in fuga i pirati. Al momento dell'allarme l'unità della Marina Militare Italiana si trovava a circa 280 miglia dal mercantile e ha mandato così in volo un elicottero con a bordo i reparti speciali della Brigata San Marco specializzati in attività di sicurezza e abbordaggio. Giunti in zona i militari si sono messi in contatto radio con l'equipaggio che ha riferito di essersi rifugiato, subito dopo aver lanciato l'allarme, all'interno della cosiddetta cittadella per sfuggire alla minaccia dei pirati saliti a bordo. Con il supporto della fregata, il team di abbordaggio della Brigata San Marco ha completato la messa in sicurezza del mercantile, ne ha assunto il controllo e, verificata l'assenza a bordo di pirati, ha liberato l'equipaggio, rimasto fino a quel momento chiuso nella cittadella. Il mercantile, con a bordo i militari italiani, escoltato dalla fregata Rizzo, ha così proseguito la navigazione verso Lagos.